Malore in spiaggia, muore ottantenne pesarese. Cambio alla questura, salutato disco, arriva il casertano Clemente. Saldi al via da sabato, sconti nei negozi marchigiani. Il nuovo show di Checco Zalone a Pesaro ad aprile 2023. VL ufficiale l'ingaggio di Riccardo Visconti. Buona serata a tutti voi, pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati ad un nuovo spazio della nostra informazione serale di Rossini. News telegiornale di giovedì 30 giugno che apriamo purtroppo con una tragedia avvenuta questa mattina sulla spiaggia di Levante di Pesaro dove un ottantenne è morto colpito da un malore mentre passeggiava. Erano circa le 9.30 del mattino quando il pensionato pesaresi in questione che stava camminando sul bagnasciuga fra bagni Iole e bagni Gabri si è improvvisamente accasciato a seguito di un infarto. Alcuni bagnanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 che una volta giunto arriva ha praticato la respirazione artificiale rivelatasi però inutile. È arrivata anche l'eliambulanza atterrata nei giardini della palla di pomodoro ma per i sanitari non c'è stato altro da fare che constatare il decesso dell'ottantenne pesarese. Ieri vi abbiamo dato notizia della morte di Marcello Berloni, grande figura dell'industria pesarese nonché fondatore dell'omonima Berloni Cucine. Berloni è morto ad 84 anni in seguito ad alcuni anni di malattia aggravatisi negli ultimo periodo. Il funerale è stato fissato per domani venerdì 1 luglio alle ore 16 nel Duomo di Pesaro. Le immagini che vi stiamo per mostrare ora invece arrivano dalla questura di Pesaro dove oggi c'è stato l'ultimo giorno di direzione dell'equestore Michele Todisco che va in pensione e al suo posto arriva il casertano Raffaele Clemente. Dopo due anni e mezzo di servizio oggi è arrivato l'ultimo giorno per Michele Todisco alla direzione della questura di Pesaro Urbino. Todisco va in pensione e a vicendarlo a presidio della questura ci sarà il 61enne casertano Raffaele Clemente, attuale vicequestore di Terni e per tre anni a capo del comando della polizia locale di Roma Capitale. Clemente sarà a Pesaro per l'insediamento il 7 luglio ma intanto oggi in questura c'è stato un emozionato momento di congedo per Todisco che non solo lascia a Pesaro ma dopo 38 anni di servizio lascia ogni incarico di polizia per sopraggiunti limiti di età. La malinconia in quei momenti prevale, il tempo è passato purtroppo, purtroppo è un passaggio particolare che sicuramente verrà superato però oggi non è una giornata particolarmente felice per me. Todisco ora si trasferirà a vivere a Bologna dove vive e lavora la moglie magistrato ma manterrà con Pesaro un rapporto speciale. Io ho trovato una bella città, una bella città sana, educata, pulita, solidale, una bella realtà, veramente una bella realtà. Non la conoscevo, me ne parlavano sempre bene di Pesaro e ho toccato con mano questa situazione. Per Todisco Pesaro è stata un'esperienza doppiamente unica, non solo perché è l'unica vissuta da questore ma anche perché è cominciata in simultanea alla deflagrazione della pandemia. Sono arrivato il 24 febbraio del 2020 e ricordo come ho detto in precedenza anche da altri organi di stampa che il 24 pomeriggio ci fu la prima riunione plenaria in prefettura con tutti i sindaci della provincia per le prime azioni da compiere per i contagi stavano crescendo. La prima riunione quel giorno lì, il 24 febbraio, ci fu la riunione per discutere se chiudere o meno le scuole. La prima ondata qui a Pesaro è stata veramente terribile, anche la questura è stata falcidiata, compreso me stesso, dal Covid. Dal sindaco Ricci al presidente della provincia Paolini tanti attestati di ringraziamento sono arrivati oggi verso il lavoro di Todisco che a Clemente lascerà non solo un ufficio ma anche una strada in discesa verso il trasferimento della questura negli spazi della caserma militare. È una soluzione ottima, la migliore possibile secondo me, perché è centrale, è funzionale, riqualifica anche la parte del territorio della città di Pesaro con la presenza delle forze di polizia in zone non dico malfamate ma in zone un po' più difficili della città e quindi questa presenza potrà ulteriormente bonificare la città e rendere ulteriormente vivibile. Questa mattina a Palazzo Ducale della Prefettura di Pesaro si è tenuta il consueto bilancio annuale di sostenibilità di Marche Multiservizi, un bilancio che vi mostreremo in uno speciale d'approfondimento che trasmetteremo martedì 5 luglio alle 21.20. In questa occasione però è intervenuto anche l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi che ci ha fatto il punto della situazione per quello che riguarda lo stato di salute dei bacini idrici della provincia di Pesaro Urbino dopo questa perdurante siccità. Ascoltiamolo in questa intervista. La crisi idrica sia sotto gli occhi di tutti, lo vediamo, parlando di questa provincia in modo particolare l'attenzione è sul fiume Metauro perché dal fiume Metauro noi captiamo l'80% di acqua da potabilizzare che poi redistribuiamo nelle case di questa provincia, tutta la città di Pesaro, tutta la città di Fano ma anche altri comuni. Il fiume Metauro non è ancora, tra virgolette, in emergenza ma è molto vicino e sicuramente andrà in emergenza da qui a pochi giorni o pochissime settimane. Probabilmente saremo costretti anche quest'anno a riaprire il pozzo di Sant'Anna del Furlo e il pozzo del Burano tra Cagli e Cantiano per immettere acqua nel fiume e fare in modo che poi i punti di captazione più a valle che sono a Tavernelle, quindi a Coglio al Metauro dove Marche Volte e Servizio capta acqua da potabilizzare e immettere nell'acquedotto utilizzare questi pozzi vuol dire non far seccare il fiume, detto brutalmente. È un qualcosa di eccezionale, fino a qualche anno fa veniva ogni qualche anno purtroppo a noi ultimamente avviene con regolarità ogni anno quindi noi dovremmo imparare, secondo me, ad immagazzinare acqua durante l'inverno quando piove, quando si sciolgono le nevi, magari in alcuni bacini o nuovi bacini da realizzare ma io credo sia molto importante anche la pulizia dei bacini già esistenti. Sul fiume Metauro noi abbiamo la diga del Furlo, la diga di San Lazzaro di Fossombrone e la diga di Tavernelle di Coglio al Metauro. Queste tre dighe, questi tre invasi, hanno una capienza oggi di circa un terzo di quella che inizialmente avevano prima che fossero intasate di detriti non sono mai stati puliti nei decenni. Se noi pulissimo questi tre invasi, riuscissimo a pulire quei tre invasi oggi avremmo un milione e mezzo di metri cubi d'acqua a disposizione durante l'estate cioè volrebbe dire due mesi di autonomia, cioè volrebbe dire superare qualsiasi crisi estiva. Cambiamo argomento perché sabato 2 luglio iniziano i saldi estivi. Nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare quale area si respira fra i commercianti pesaresi in vista di questo particolare appuntamento. È un weekend da cerchiare in rosso per i commercianti e per i consumatori a caccia di occasioni. Sabato 2 luglio è infatti la data di partenza dei saldi estivi nelle Marche. Saldi che dureranno praticamente due mesi per concludersi il primo settembre. Fra i commercianti pesaresi del centro storico questo il parere in merito a questo crocevia importante della stagione di vendite. È il momento diciamo quello più clou dell'estate perché comunque sì è vero le vendite sono diciamo buone lo stesso però diciamo col saldi si incentiva ancora di più. Quindi riusciamo un attimino anche ad accontentare il cliente, abbiamo molte merce quindi dai siamo contenti anche per portare anche gente. Ma è un momento che aspettiamo con molto entusiasmo, energia e faremo importanti promozioni sia nel negozio da uomo che questo che nel negozio da donna che è in via Branca 31. Partiamo subito con un saldo importante, uno sconto per avvantaggiare tutti i nostri clienti sia di vecchia data che anche nuovi. Allora è sicuramente un momento speriamo di affluenza di clienti che verranno sicuramente per trovare le occasioni per vestirsi visto che l'estate è iniziata da poco dobbiamo continuare a vendere il prodotto estivo però se devo dare il mio parere come dico tutti gli anni questi saldi sono un po' troppo anticipati. Io i saldi li tornerei a fare come erano una volta a fine agosto. A fine agosto, metà agosto, insomma il periodo di agosto dove la stagione sta finendo e allora lì possiamo fare dei saldi anche più accattivanti diciamo. Sono saldi particolari perché c'è ancora la maggior parte dell'estate all'orizzonte e va da sé che c'è la possibilità di scovare ottime occasioni per gli acquirenti di capi per la bella stagione. Noi inizialmente partiamo con dei saldi diciamo abbastanza bassi ma che comunque incentivano il cliente all'acquisto dopodiché andiamo ad aumentare. I consumatori che si rivolgono ai negozi seri, quelli che comunque non alterano i prezzi che rimangono con gli stessi cartellini diciamo, certamente è un'occasione perché sono gli sconti e quindi il prezzo diminuisce notevolmente. E vi ricordiamo che nel servizio che avete appena visto le interviste sono state realizzate dalla nostra Letizia Moretti che ha raccolto queste ed altre voci che potrete approfondire in merito all'andamento dei saldi della stagione estiva dei commercianti nel nostro consueto spazio del venerdì Vox Pop, la voce dei pesaresi che va in onda come prima edizione domani alle 19. Ed ora cambiamo argomento perché continuano gli attestati di generosità dei volontari della Onlus Gulliver che questa mattina sono stati protagonisti di una donazione alle personale del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. L'arancione e il verde, due colori che caratterizzano questa mattinata, l'ultima del mese di giugno del pronto soccorso di Pesaro. L'arancione delle divise dei volontari della Onlus Gulliver, il verde delle calzature donate dai volontari della Onlus al personale del pronto soccorso. Una donazione importante, un gesto di vicinanza della cittadinanza ad una categoria lavorativa perennemente sotto pressione dalle periodi del Covid, ma non solo questo, un gesto piccolo, l'ha descritto il direttore di Gulliver, Andrea Boccanera, ma dal grande valore, molto apprezzato dal personale e dalla direzione dell'ospedale e del pronto soccorso. La Gulliver sarà andata molto bene, la cittadinanza c'è vicina con il circolo di riuso, quindi riusciamo a fare delle donazioni a chi se lo merita. Il pronto soccorso, medicina e urgenza, ha delle persone fantastiche al loro interno, lavorano quotidianamente e sudano per la città. Le calzature vogliono essere un piccolo riconoscimento, un investimento non da poco, perché parliamo di più di 100 calzature, vogliamo dire che vi siamo vicini e vi diciamo grazie. Sono effettivamente grato alla Gulliver, di questa vicinanza, che è testimonianza della vicinanza di tutta la cittadinanza. Per noi che crediamo in un sistema sanitario universale, siamo ancora qua come servizio per la cittadinanza. È anche molto simbolico secondo me, perché regalare delle calzature vuol dire andare la marcia, il senso della marcia, quindi andare sempre avanti e mai tornare indietro. E questo è bellissimo. Io vado sul significato dei due colori, arancione e verde. L'arancione esprime l'estate, l'armonia, la pace e la serenità. Il verde e il verde speranza. Due colori importantissimi. Penso che il messaggio lo danno tutti loro e per il bene che fanno quotidianamente. E noi non possiamo che ringraziare. Grazie. Appuntamento importante domani in prefettura a Pesaro, quando alle 16.30 sarà ospitato il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini per fare il punto sulla ferrovia adriatica e il piano di infrastrutture del paese, con particolare focus sul potenziamento della tratta Bologna-Lecce, sul nodo pesarese e la relativa Green Line. Per ragioni logistiche l'appuntamento è stato spostato dall'iniziale sede del teatro sperimentale alla prefettura e sarà tenuto alla presenza del sindaco Matteo Ricci, del rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini, della presidente di Confindustria Pesaro Urbino Alessandra Baronciani e di Roberto Rossini in rappresentanza di CGL, CISL e UIL. Il Conservatorio Rossini di Pesaro ha siglato un protocollo d'intesa con l'azienda Ospedali, riuniti di Ancona, per l'attivazione del percorso di diagnosi e trattamento della patologia della mano del musicista. Si tratta di un importante traguardo volto a salvaguardare e tutelare i musicisti del conservatorio con un percorso specializzato di alto valore medico-scientifico frutto di una sinergia tra due grandi istituzioni marchigiane. E questa sera è appena cominciato il Cater Raduno. Si tratta del grande evento della trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar che da oggi fino al 3 di luglio si è trasferito a Pesaro fra Baia Flaminia e Piazza del Popolo. Una piazza nella quale questa sera alle 21.30 si terrà un evento teatrale speciale di Andrea Pennacchi mentre domattina all'alba alle 6 ci sarà il concerto delle cantante Motta dal palco di Baia Flaminia. Sullo stesso palco domani alle 22 altra performance musicale di Ariete. E dopo il successo delle passate edizioni torna il consueto appuntamento dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote con il motoraduno del mare organizzato dal motoclub Pesaro Tonino Benelli valido come selettiva del campionato italiano turismo FMI. La manifestazione a cui ogni anno partecipano tantissimi motociclisti provenienti da tutta Italia è fissata per questo sabato 2 luglio e per domenica 3 a Pesaro con punto di partenza per due tour motociclistici che porteranno gli iscritti alla scoperta del territorio accompagnati dalle guide del motoclub Tonino Benelli. Il tour di sabato si diramerà nelle curve della panoramica San Bartolo quello di domenica toccherà altre colline dell'entroterra pesarese. Il popolare attore e artista comico Checco Zalone si esibirà alla Vitri Frigo Arena di Pesaro il prossimo 15 aprile 2023 in occasione del suo nuovo spettacolo dal titolo Amore più IVA scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino che lo porterà in tour nei teatri e nei palasporti italiani. L'artista pugliese tornerà sul palco 11 anni dopo il resto umile world tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Amore più IVA è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. In occasione del tour Zalone presenterà anche la sua nuova canzone sulla barca dell'oligarca. 50 anni fa, nel 1972, il vecchio palasporti di Pesaro ospitava uno storico concerto della mitica band inglese dei Genesis. Venerdì a Villa Berloni per commemorare questo particolare anniversario si celebrerà appunto l'occasione con un concerto tributo che andiamo a scoprire in questa intervista realizzata dal nostro Paolo Pagnini. Siamo con Riccardo Gravagna davanti a un cartello che riporta Genesis. Scusi, dottor Gravagna, in che anno siamo? Qui siamo nel 1972. Noi eravamo, io e te eravamo due ragazzi adolescenti che avevamo, bisogna dire la sincera verità, pochi soldi in tasca e ci siamo persi persino il concerto che fecero in quell'anno al Palazzo dello Sport perché mettevamo via i soldi per comprarci i dischi e quindi vedete che occasione è che ci siamo persi al tempo. Ma saltiamo tutti questi anni e arriviamo al 2022, cosa sta per succedere? Sta per succedere che adesso lo celebriamo. Adesso il concerto lo facciamo, chiaramente i Genesis con gli veri non ci sono più. C'è un gruppo che è eccezionale, che sono i Get Em Out, gruppo di Milano, che ripercorre in maniera fedelissima quella che è stata l'epopea Peter Gabriel, sia a livello di costumi, sia a livello di strumenti, sia a livello proprio di sonorità. Loro sono veramente rigorosi, veramente bravi. Ripercorriamo il percorso Foxtrot e non solo, perché non faranno solo Foxtrot, in un posto incantevole che è l'Anfiteatro di Villa Berloni sulla Candelara e devo dire che abbiamo avuto una bella risposta soprattutto anche da persone non di Pesaro che conoscono i Get Em Out, che ci hanno prenotato i biglietti da Miglia Romagna, Toscana, Lombardia addirittura e verranno tutti gasati e inebriati per sentire il suono vero, il suono di una musica che secondo me è ancora attuale. E sabato 2 luglio a Palazzo del Monte di Monbaroccio si terrà il secondo dei tre appuntamenti del format conterranea che andiamo a scoprire in questo servizio. Dopo la tappa d'apertura al Museo del Balì di Coglie al Metauro, sabato 2 luglio conterranea arriva a Monbaroccio nel secondo capitolo del format realizzato dai comuni e dalle proloco dell'areale della DOP, ovvero Cartoceto, Monbaroccio, Coglie al Metauro e Fano. Cultura, musica e sapori, olio su tutti, si uniscono in un'esperienza che sabato arriva a Palazzo Guido Baldo del Monte e che viene presentata così dal sindaco Emanuele Petrucci. a Palazzo Guido Baldo del Monte a Palazzo Guido Baldo del Monte a Palazzo Guido Baldo del Monte Grazie a tutti. 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 Andremo a rivivere il bilancio conclusivo e le situazioni dell'ultima serata, la serata conclusiva, questa sera alle 21.40. Facciamo un passo anche a domani che vi abbiamo anche anticipato all'interno del nostro telegiornale odierno. Parliamo di Vox Pop, la voce dei pesaresi. L'appuntamento fisso con la nostra Letizia Moretti che vi tiene compagnia in prima edizione tutti i venerdì alle 19 con replica alle 22.30. Ve ne abbiamo dato un assaggio nel nostro Tg. Potrete approfondire tante altre voci per quello che riguarda i saldi estivi e il punto di vista per i commercianti pesaresi in vista degli sconti che partono questo weekend. Ed è davvero tutto per questa edizione delle telegiornale Rossini News da parte mia e di tutta la redazione. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata in compagnia dei nostri programmi.